Cari amici di Teleradio San Pietro, benvenuti a questa nuova puntata sulla scienza istimica che come vedete è questione di vita o di morte delle nazioni e delle loro popolazioni allora che questa scienza viene rispettata oppure viene calpestata, viene violata. E noi andiamo dimostrando da ben due anni che in Appennigna questa scienza istimica è violata irreparabilmente a 360 gradi. Perché? Perché l'Appennigna con Roma, Napoli, Palermo, Firenze è la capitale dell'antico vero regime. Dell'ordine naturale è rivelato delle cose. E poiché il nuovo falso regime è tale e per funzionare ha bisogno di fare danni, di danneggiare, il nuovo falso regime deve tenere prigioniere le nazioni che sono capo a tutte le altre, appunto Roma, Napoli e Palermo. Le deve denigrare, non può non denigrarle, non può non rovinarle perché il nuovo falso regime è figlio di Satana, è figlio del male. E quindi le denigra, questione meridionale, lo Stato italiano è una nazione inventata che non esiste ed è una nazione impossibile scientificamente perché tiene per capitali economiche, innanzitutto è un unico Stato e poi tiene per capitali economiche Torino e Milano, continentali, capitali di Napoli, di Cagliari, di Palermo, di capitali di città pen e insulari, degradate e questo è impossibile, impossibile scientificamente, secondo l'ordine naturale delle cose. Quindi il risorgimento italiano è la più grande truffa internazionale, non solo tra il Piemonte e le altre nazioni, ma di tutto il nuovo falso regime. Il Piemonte è il mandatario di questo Stato patologico di cose. Quindi non possiamo illuderci, finché funzionerà, perché non funziona, ma per farlo funzionare questo nuovo falso regime, le nazioni del sud appenninico saranno sempre considerate, saranno sempre artatamente votate ad essere questione meridionale. Vedete questa raffigurazione? Questa raffigurazione dice tutto. La tria de Giacobina, liberté, galité, fraternité. Vedete sopra la tria de Giacobina? Libertà, uguaglianza, fratellanza. Vedete quest'uomo? Quest'uomo è il massone. È l'uomo che edifica, distruggendo però, perché edificare nel nuovo falso regime significa distruggere sistematicamente l'ordine naturale delle cose. Questo è l'uomo nuovo, l'uomo massonico, con la cazzuola in mano. Vedete il grembiolino? Al posto è il nuovo Adamo, in poche parole, contro non solo Gesù Cristo, ma contro anche il vecchio Adamo, perché il vecchio Adamo copre la sua nudità con la foglia di figo, lui ed Eva. Il figo significa il pentateuco, la legge mosaica. Quindi significa che l'uomo, anche se è stato colpito, vulnerato dal peccato originale, comunque è chiamato da Dio alla sua legge. Invece quest'uomo nuovo, giacobino, liberal, riformato, rivoluzionario, non ha la foglia di figo, ma ha il grembiolino massonico, cioè la ribellione a Dio. La ribellione reparabile a Dio. Vedete quest'uomo che sta sotto i suoi piedi? Prego la regia di inquadrare l'uomo che sta sotto i piedi dell'uomo nuovo giacobino, massonico, repubblicano, monarchico, cesarista, chiamiamolo come vogliamo. E il prete, il sacerdote cattolico, pensate la rivoluzione francese, alla fine massacrò ed esiliò gli stessi preti che avevano giurato fedeltà alla Costituzione, alla Costituzione civile del clero. Massacrò ed esiliò quegli stessi sacerdoti cattolici che ingannati avevano giurato alla Costituzione civile del clero perché le ritenne, perché compresero l'inganno e quindi stavano per ritornare cattolici. Prego la regia di inquadrare il cippo su cui poggia la mano del massone. Non sono più i dieci comandamenti, ma sono la legge anarchista votata in Parlamento. La legge anarchista votata prima nelle logge massoniche e poi nei governi, che sono nei governi di formato rivoluzionario, che sono lo specchio delle logge templari massoniche. Quelli non sono più i dieci comandamenti, ma sono la legge votata dalla setta massonica. E poi prego la regia di venire giù, di venire all'angolo e vedere ciò che l'uomo nuovo, riformato, rivoluzionario, massonico, illuminista, deista, giacobino, liberal comunista, a ciò che ha demolito. Vedete le tiare, gli incensieri, le tiare dei papi, la tiara del papa, vedete le corone dei re cattolici, vedete bene le corone dei re cattolici, dalla parte del piede di quest'uomo, osservate bene le due corone dei re cattolici, poi l'incensiere, la tiara, la bibbia, è sotto gli occhi di tutti. Il barone di Sade, il marchese di Sade, che morirà in manicomio, farà un appello ai giacobini chiamandoli francesi. Francesi, voi dovrete liberare l'Europa dallo scettro e dall'incensiere, cioè dalle corone cattoliche, dallo scettro cattolico e dall'incenso, dal tribolo, dagli altari cattolici. E dichiara il Santissimo Sacramento Dio di Farina. E al Santissimo Sacramento è dichiarata la Basilica di Santa Chiara in Napoli. Questa Basilica che è il panteon dei re cattolici, quei re cattolici che abbiamo visto distrutti ai piedi dell'uomo nuovo, Giacobino, liberale, anarchista, chiamiamolo laicista, come vogliamo. Questa è la Basilica di Santa Chiara. La Basilica di Santa Chiara, per intenderci, è il panteon dei re di Napoli. Ecco il rogo in cui tra 4 e 5 agosto 1943 la Basilica di Santa Chiara a cui viene ridotta, il rogo a cui viene ridotta dalle bombe anglofone, il 4-5 agosto, festa massonica della stella Sirio, 1943. 943. Prego la regia di inquadrare come era. Vedete che il rogo è impressionante. Pensate che gli altari gotici, tutte le cose gotiche in pietra, erano state rivestite di legno, di tavole in legno, per proteggere questi altari bellissimi, meravigliosi, gotici, dalle bombe dirompenti. Invece i nostri nemici, invece i nostri nemici, che fecero, la colpirono con le bombe incendiarie. Fu colpita con le bombe incendiarie. Pensate, e il legno di protezione e gli stessi sacchi di sabbia, anziché difendere i capolavori di arte, il pulpito dedicato alle scene di Santa Caterina d'Alessandria, il grande mausoleo centrale di Carlo II d'Angio, Roberto d'Angio, cosa avvenne? Avvenne che sia il legno, sia i sacchetti di sabbia, che fusero in calce, calcificarono i monumenti. Ed ecco adesso, ve li voglio far vedere, così, 200... Vedete il pulpito dedicato a Santa Caterina d'Alessandria? La santa che parlava a Giovanna d'Arco, gli angioini, gli angioini, Giovanna d'Arco verrà dopo, nel 1004, ma Santa Caterina è una grande santa venerata dagli angioini. Poi, 198, il pantheon, ripeto, dei re di Napoli, quindi degli angioini, degli aragonesi, dei borbone, tutti i re di Napoli. Gli Asburgo avevano i vicerei, quindi non sono sepolte qui, stanno a Madrid, gli Asburgo. Vedete il mausoleo gotico di Roberto d'Angio, vedete quanto era bello, bellissimo. Prego la regia di inquadrare le guglie superiori, vedete com'era bello. Era il più bel mausoleo gotico d'Italia, a Roberto d'Angio, re di Napoli. Voi sapete che agli angioini fu strappata la Sicilia, con i Vespi siciliani, il 30 di... il 30 di marzo, 1282. Vedete il mausoleo come è stato sfigurato dalle bombe cabaliste e maltusiane del 1943, del 4 e 5 agosto 1943. Si tratta di distruzioni artate, volere distruggere la memoria della nostra nazione. Vedete com'era stato sfigurato, non è stato più ricostruito. Monte Cassino, le tiare, le mitre, Santa Chiara, le corone. Le stesse cose che vediamo ai piedi dell'uomo nuovo, giacobino, repubblicano, oppure monarchico cesarista, orangista quindi, sabaudo, massonico per intenderci. Vedete allora, è tutto un progetto. E poi vi dico di più. Quando Santa Chiara fu bombardata, fu distrutta con le bombe incendiarie, per non fare accedere i vigili del fuoco a spegnerla, le bombe anglofone, miratamente, con intelligenza satanica, distussero i quattro angoli di accesso delle strade, in modo che i vigili del fuoco non potettero accedere a spegnere il fuoco. Quindi bombardamenti mirati, lo dice la data, la stella massonica sirio, per intenderci il 5 agosto 1850, il governo di Torino inizia a dare guai all'arcivescovo Luigi Franzoni e lo esilia, il 5 agosto 1966 inizia la cosiddetta rivoluzione culturale di Mao Zedong che distrugge tutta la Cina confuciana, confuciana, buddista e cristiana. Vedete la distruzione, le tombe come vennero ridotte, le tombe dei re di Napoli e anche Sicilia. Si tratta di un odio immedicabile, irreparabile, lo dicono i fatti. E poi un'altra cosa va smentita. Questa città fu bombardata per errore, quest'altra città fu bombardata per errore, sul municipio di Venafro. Venafro fu bombardata per errore, doveva essere bombardata a Monte Cassino. Fratelli e sorelle, se non vogliamo perdere la ragione, perché abbiamo già perso la fede cattolica, questo è il guaio, e quindi perdendo quella si sta perdendo la ragione, dobbiamo iniziare a vedere, a calcolare questi bombardamenti. Non c'è un angolo d'Europa che non sia stato colpito dai bombardamenti, dai bombardamenti anglofoni. Non c'è un angolo dell'Europa. E la dobbiamo smettere di dire per errore. La canzone di Loretta Goggi, se per errore, maledetta primavera, chiudo gli occhi e penso a te. Là sta il per errore. Ma non sta certo nei bombardamenti. Sono mirati, sono mirati. Non si spiegherebbe tutta la distruzione dell'arte cattolica sistematicamente. La Campania è il triste primato. Il Sud Lazio è Campania, il Monte Cassino è Campania. Sia ben chiaro. E poi, se andiamo ai castelli romani, i castelli romani nel 42-44 furono bombardati nelle date che vanno intorno al Trattato di Sutri, quindi gli inizi di febbraio e vi è una data particolare. Inizia già il 4-7 febbraio qualche bomba. Poi si ha il bombardamento massiccio e si calcola dai 400 ai 1000 morti. Non si sa bene, non si ha la precisione, ma si tratta di un atto che gli eredi delle vittime vogliono far dichiarare crimine di guerra. Le bombe anglofone, niente meno, bombardano il 10 febbraio 1944, bombardano le ville di Castel Gandolfo. Lo Stato extraterritoriale, lo Stato del Vaticano viene bombardato tra le tante incursioni, ma quella più pesante è quella del 10 febbraio 1944. Le bombe statunitensi inglesi vengono lanciate miratamente su Castel Gandolfo, che è stato del Papa, è lo Stato extraterritoriale, ma tutto all'asta, l'odio è tutto all'asta. Pensate, il 10 febbraio 1377, il Coniglio di Roma condannava gli errori di Wycliffe, questo grande resiarca, padre dello scismo anglicano, lui Marsiglio da Padova, sono i precursori di Lutero e Calvino, Zlingo e così via. Il 10 febbraio 1377, il Coniglio di Roma condanna gli errori del prete apostata John Wycliffe, un odio terribile ai conventi, ai monasteri, dice che i monasteri sono covi di armi, ma vedete, le calugne fatte da loro contro i monasteri si rivelano realtà dopo, realtà quando i protestanti e i rivoluzionari vanno al potere. Prima i monasteri erano pieni di frati, di suori che pregavano, lavoravano, i monaci benedettini hanno bonificato tutta l'Europa, le abbazie benedettine, le certose e così via, cultura, cultura e cultura, tutte e due hanno data l'Europa, cultura insegnando e cultura bonificando. Adesso, oggi, che le leggi riformato-rivoluzionare, per intenderci, dai protestanti ai rivoluzionari, agli iluminista, ai liberali, ai giacobini, hanno confiscato i conventi, vi hanno scacciato le suore, i frati, i monaci, le monache, li hanno riempiti di dinamite, li hanno riempiti di dinamite, di militari, con la leva obbligatoria, adesso che hanno fatto del mondo intero una polveriera, e questa polvere, questa dinamite, non sta lì a cambiare aria, sta lì perché vi sono dei progetti, perché deve esplodere, adesso che fanno? Il nuovo falso regime, che ha apostatato la fede cattolica, che ha misconosciuto il Papa, l'ordine naturale delle cose, perché il Papa diceva se due nazioni stanno in guerra non possono entrare con un'altra, vi sono le tregue di guerra, possono avere massimo tanti soldati, si può combattere massimo in tali mesi, ma fuori dai centri abitati, non si possono invadere i centri abitati, si deve combattere cavalerescamente, tra militari e militari, non possono essere coinvolti i civili e così via, vedete tutte le tregue di guerra, il Medioevo è meraviglioso per queste cose, lo stesso Barbarossa quando brucia Milano fa uscire tutti i civili fuori e poi distrugge Milano, oggi invece accumulando tutta questa dinamite, questa dinamite che va a bombardare proprio i centri abitati, con i suoi bombardamenti terroristici, è il nuovo falso regime che è Marcio, è inutile dire colpa di Hitler, colpa di quello, colpa di quell'altro, se il nuovo falso regime riempie, ripeto, svuota i conventi di frati e suori, li riempie di dinamite e di soldati, è lui responsabile di tutto ciò, dello sfacelo. Hitler è un'espressione, una semplice espressione del nuovo falso regime, chi più si arma fa male e fa male all'altro vince, non è Hitler che ha, Hitler è nato nel 1889, il 20, il 20, aprile 1889, ma questo stato di cose deriva dal protestantesimo, deriva dal sedicesimo secolo, vincere con qualsiasi mezzo, vincere con qualsiasi mezzo, basta che si vince, ed ecco perché l'odio al principe cattolico, perché il principe cattolico fonda i monasteri, rispetta i conventi, ai frati che lo educano, ai monaci che gli fanno da padre spirituale, ha su di sé il principe cattolico, ha su di sé i dieci comandamenti, ha dinanzi a lui i dieci comandamenti, il principe cattolico, rispetta i dieci comandamenti, rispetta l'ordine naturale delle cose, il re di Inghilterra, il re cattolico di Inghilterra è pari al re di Francia, ma poiché lui è duca di Aquitania, nel nord della penisola interpirenaica o atlantico-mediterranea, in Aquitania, il re d'Inghilterra si inginocchia dinanzi al re di Francia come suo vassallo, perché è duca di Aquitania, quindi rispetta l'ordine naturale delle cose, dice tu sei mio pari al re di Francia, però sei mio superiore, sei il mio re, riguardo a me che sono tuo vassallo in quanto duca di Aquitania. Dove sta questa umiltà adesso? Vedete che ordine ha il Medioevo, un ordine meraviglioso e quell'ordine non ha permesso i bombardamenti terroristici del 43, le distruzioni terroristiche della guerra, della rivoluzione francese, ma di tutto il protestantesimo, il male parte dal protestantesimo, dall'avvento di Elisabetta I al potere, infatti le guerre di Francia, le guerre civili di Francia, iniziano col Coligny il primo aprile 1562 ed Elisabetta è appena salita, la spergiura Elisabetta che è salita come regina cattolica e ha spergiurato, ha tradito il cattolicesimo, Elisabetta è salita appena il 15 gennaio 1559, quindi si è appena organizzata in due anni e ha iniziato a tramare contro la Francia e l'Europa. Le stragi ugonotte di sacerdoti, gli assalti alle città, i tradimenti spudorati, le efferatezze, le torture più atroci commesse dagli ugonotti di Francia e dai geusi di Olanda contro i cattolici gratuitamente, contro le città cattoliche, le popolazioni cattoliche, contro il clero cattolico, violando i giuramenti appena prestati, gli orrori della inquisizione protestante, questo è un libro scritto dall'araldo cattolico che copia un libro autentico su tutte le persecuzioni protestanti, anarchiste, ugonotte, geuse, anglicane, orangiste, alla chiesa, ai cattolici d'Europa. Ebbene, quando Caterina de' Medici delibera la notte di San Bartolomeo, che è una notte deliberata al momento in cui vengono sterminati gli ugonotti facoltosi, la nobiltà ugonotta di Francia, gli ugonotti erano ricconi di Francia, erano come baroni siciliani, erano contro la monarchia di Francia, spesso. Gli ugonotti, Caterina de' Medici è costretta a deliberare la notte di San Bartolomeo, siamo il 24 agosto 1572, a dieci anni di aggressioni alla popolazione cattolica francese, al clero francese. Dopo dieci anni, 1562, ebbene, i libri di testo parlano di una Caterina de' Medici che delibera questa strage tacendo tutte le stragi fatte dagli ugonotti. Lo stesso Coligny, quando uccise e martirizzò un frate, quel frate gli predisse la sua morte. E questo non viene detto. Allora ecco l'odio immedicabile a Santa Chiara. E pensate, Santa Chiara, quando viene redificata, le reliquie nell'altare maggiore consistono nelle reliquie dei martiri di Gorgomma, uccisi dai geusi, dai calvinisti, d'Olanda. Vedete, la natura vuole, la natura delle cose, vuole che la verità si faccia strada da sola. Santa Chiara distrutta, il pantheon dei re di Napoli distrutto dall'odio rangista anglicano, maltusiano, dall'odio cabalista di tutto il mondo, l'altare viene consacrato con le ossa dei martiri di Gorgum. Quindi credo di essere stato molto chiaro. Poi un'altra cosa, a scuola, anche in seminario, gli stati pontifici si reggevano su un falso, sulla donazione di Costantino che era un falso. Quindi già a scuola ci mettevano il dubbio, il dubbio contro lo stato pontificio in favore di Cavour e del Garibaldi. Invece non è così, nel modo più assoluto. È vero che il falso, che la donazione costantiniana è un falso del nono secolo. È stato dimostrato da Lorenzo Vall, l'umanista del quindicesimo secolo. È verissimo. E poi reso noto a tutti nel 1517, non a caso l'anno della riforma, da un polemista sempre protestante. Però il Papa diventa il re naturale degli stati pontifici quando gli stati pontifici vengono abbandonati letteralmente, militarmente innanzitutto dall'imperatore d'Oriente. Imperatore che esigeva solo tasse su tasse. Quindi gli stati pontifici si trovano nella morsa tra la Langobardia Minor, Spoleto e Benevento e la Langobardia Maior, il Friuli, la Lombardia, il Piemonte, tutto il nord. Si trovano in questa morsa, non sono più difesi militarmente dall'imperatore di Oriente. Leone III Isaurico che è passato persino all'Iconoclastia e il Papa Nicola II, Gregorio II, questo grande Papa dice ai Longobardi voi dovete restituire questi castelli famosi Sutri, Amelia e così via all'imperatore perché non sono vostri, voi siete nuovi arrivati non solo avete preso tutto il nord, avete preso il centro-sud, avete preso Spoleto, Benevento e così via, basta, cosa volete di più? Invece il re Luth Brando dice al Papa no, non li restituisco all'imperatore perché l'imperatore trascura queste perle, li do a te, li dono a te, la restituzione è donazione di Sutri. 728, 743 nascono de facto gli stati pontifici ma nascono perché il Papa è il vero re di Roma il vero re di quegli stati che li tutela che li protegge è spontanea la cosa non è che il Papa usurpa anzi il Papa disse restituisce all'imperatore Maria Longobardo disse l'imperatore ha ben altre cose a cui pensare restituisco a te e poi con il trattato di Kerzi quando in Piccardia quando Stefano II va da Pipino e Pipino il 14 di aprile il 14 di aprile 754 fa il patto con Pipino che difenderà il patrimonio di San Pietro gli stati pontifici dalle aggressioni longobatte e tutti sappiamo Carlo Magno scende sconvigge Desiderio il figlio Adelchi che si danno a saccheggiare continuamente ad aggredire il patrimonio di San Pietro quindi gli stati pontifici nascono legittimamente non fa una piega come nascono nascono in un modo meraviglioso spontaneo il Papa diventa allo stesso tempo anche il capo temporale delle nazioni pontificie che partono dal nord Lazio per finire in Romagna l'esarcato la Pentapoli che veniva spesso usurpata dai re Longobardi quindi la storia è tutta da riscrivere ci hanno ingannato e appunto gli stati della Chiesa che erano accerchiati dalla Longobardia del nord Maior e dalla Longobardia minor del sud fanno rientrano in perfetto ordine nella scienza istimica non fa una piega è scientifica la loro posizione è scientifica è scientifico il loro potere è legittimo il loro potere ed è legittimo non solo in forza del diritto delle genti del diritto naturale ma gli stati pontifici sono scientifici agli ultra 360 gradi appunto in conformità alla scienza istimica perché la rivelazione non può che non perfezionare la scienza istimica altro che l'uomo nuovo Giacobino che come vedete nasce nella violenza anticattolica che allo stesso tempo non può non diventare violenza innaturale contro l'ordine naturale delle cose l'Italia istimica l'Italia distinta in più nazioni e l'Italia scientifica l'Italia raffigurata rappresentata dal Papa e dai Re Cattolici la penisola annessa anarchisticamente alla continentalità piemontese invece è la negazione non solo di Dio della Santissima Trinità ma la negazione dell'ordine naturale stesso delle cose travolge lo stesso ordine naturale diventa disordine massimo naturale e la questione meridionale è sotto sotto gli occhi di tutti oggi con la strategia della confusione dei termini diceva una professoressa un ragazzo non esiste più la questione meridionale esiste come? come non esiste? strategia della confusione dei termini il sud se Dio vuole alla prossima volta grazie a tutti